Perché vede, il problema è il concetto stesso di bonifica. Il concetto di bonifica è che secondo le società, la FALC e le società successive, la bonifica è avvenuta attraverso la costruzione di un capping, quindi di uno strato di asfalto, sopra l'area. Nella vicenda legata all'inchiesta sull'area ex FALC di Novate Mezzola, quel non luogo a procedere, decretato dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Sondrio, Antonio De Rosa, che di fatto proscioglie tutti e dieci gli indagati, con l'archiviazione anche per le tre società poi proprietarie dell'area dove operò l'acciaieria, è un affronto che brucia sulla pelle di tutti coloro i quali, per anni, si sono battuti nel denunciare i danni causati dall'inquinamento da cromo esavalente nel territorio in cui lo stabilimento ha funzionato fino al 1990, passando poi alle società Novamet, Novamin e Novate Mineraria. Oggi, quelle accuse di falso ideologico, di omessa bonifica connesse alle denunce per l'oggettiva escalation di morti per tumori, negli anni, alle scoperte delle discariche nelle quali erano stipate velenose scorie industriali, sembrano non aver portato a nulla se non ad una sentenza che lascia con l'amaro in bocca, anche perché non poche questioni rimangono irrisolte. Non abbiamo capito perché non è stato preso in considerazione il fatto che un ex operario dell'area Falca aveva testimoniato dichiarando che era stato invitato a manomettere i piezzometri e questa ci sembra una cosa di non poco conto. Detto questo, ormai quello che possiamo fare è aspettare le motivazioni della sentenza che ci riserviamo di valutare bene con il nostro avvocato. Dopodiché speriamo che la procura ricorra in appello perché con questa decisione, con questa sentenza, in sostanza sono stati cancellati anni e anni di battaglie per migliorare la situazione dei luoghi novate. Quindi noi ci siamo battuti anni per migliorare la salute e l'ambiente, in realtà il tutto verrebbe vanificato da questa sentenza. Una battaglia condivisa, quella del comitato, con altri gruppi, tra questi il movimento di lotta per la salute di medicina democratica e l'Egambiente. No, 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 proprio una doccia fredda, come si suol dire in gergo. No, 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 non ce l'aspettavamo proprio, assolutamente. Che magari potesse saltare qualche posizione, insomma, è fisiologico in ogni processo, però che ci fosse una sentenza di non luogo a procedere per tutti gli imputati, no. Nella maniera più assoluta, anche perché insomma mi pare che il tutto meritasse di un approfondimento in sede di dibattimento, quindi poi in quella sede il giudice avrebbe deciso se effettivamente sussistevano le responsabilità oppure no a carico di questi imputati. Però, insomma, mi è sembrata una scelta così, fatta evidentemente, non lo so, scriverà le sue ragioni in questo magistrato. Anche perché dopo anni di indagini condotte dapprima dal Corpo Forestale dello Stato e poi dai carabinieri forestali, il cromo esavalente stipato lungo tutta l'area della ex-Falc, oltre che in numerose discariche, quello è e rimane un fatto. Io sono sempre però quello che attende le motivazioni, anche perché bisogna dire una cosa, è la verità giudiziaria, soprattutto per quanto riguarda le vicende degli imputati. Naturalmente qui si è decretato un fatto, cioè sostanzialmente, che non sussiste la responsabilità di quelli che erano imputati. Esiste invece una realtà vera, che è quella della presenza delle scorie sotto la ex-area Falc, che ancora c'è e non è spazzata via da questa sentenza. Nell'attesa che vengano pubblicate le motivazioni che stanno dietro alla sentenza, la battaglia continua. Non abbiamo assolutamente intenzione di fermarci qui. Qualora non riuscissimo a ottenere giustizia in Italia, comunque siamo pronti ad andare al Parlamento europeo e provare ad ottenere giustizia, almeno in Europa.